Una Chiesa che si riduca all'efficientismo degli apparati di partito è già morta, anche se le strutture e i programmi a favore dei chierici e dei laici autooccupati dovessero durare ancora per secoli. È la riflessione che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontifici a opere missionarie. Nel corso dell'udienza in Vaticano il Pontifici ha ribadito che l'annuncio del Vangelo è la prima e costante preoccupazione della Chiesa, un impegno essenziale che deve essere condotto ovunque, con la preghiera, con il coraggio evangelico e con la testimonianza delle beatitudini. In un mondo che ha tanto bisogno della speranza e della gioia del Vangelo, la Chiesa è dunque chiamata a uscire per le strade e andare incontro a quanti vivono senza la forza, la luce e la consolazione di Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Per favore, state attenti a non cadere nella tentazione di diventare una O.I.G., un ufficio di distribuzione di sussidi ordinari e straordinari. I soldi sono di aiuto, lo sappiamo, ma possono diventare anche la rovina della missione. Il funzionalismo, quando si mette al centro, oppure occupa uno spazio grande, quasi come se fosse la cosa più importante, vi porterà alla rovina. Perché il primo modo di morire è quello di dare per scontate le sorgenti, cioè chi muove la missione. Per favore, con tanti piani e programmi, non togliete fuori Gesù Cristo dall'opera missionaria, che è opera sua.